Musica Bella ragazzi, qua Xeroad, eccoci tornati in questo nuovissimo video Sempre con Lama, perché Lama c'è sempre Ormai le custom maps sono una serie da fare in compagnia Eh beh, certo Guarda, 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 prima di dire qualsiasi cosa I cestini della carta No, aspetta, ho sbagliato Come lo vedo? No, no, sbagliato, ok, ok, ok I cestini della carta I cestini quando sono swag Ci puoi anche mettere dentro, aspetta, eccomi Che figata Vabbè, comunque, allora, questa mappa Sarà un calderone muto questo comunque Eh sì, probabilmente Allora, questa mappa come si chiama, dicce, Lama, che io non lo so Aspetta che lo devo leggere Ah, perché se non te lo sai È troppo difficile Metro post apocalypse Metro post apocalypse Ah no, è la custom map È la resta, spazio, che è difficile Ah The end is extremely naive Revolution Io fratello Allora Come vedete, noi dobbiamo entrare qua dove c'è la M Allora, intanto io introduco un po' la storia Dai Che c'è comunque una trama questa Vai, vai, parla Praticamente è il... Questa è la città, alla fine del 2014 A noi, anche se siamo nel 2015, non ci importa È il... Praticamente è stata colpita da delle radiazioni E quindi gli unici sopravvissuti si sono rifugiati appunto in questa metro Vivono nei tool della metro praticamente E noi appunto siamo qui che dobbiamo salvare, dobbiamo completare appunto questa mappa, la fine E questo è l'obiettivo, completare una mappa Eh, come potete vedere qua, abbiamo delle classi Abbiamo il mercante, il dottore, la guardia e il lanter, che cos'è il lanter? Il cacciatore Il cacciatore Dai, ah, 3, 2, 1 Eh, già sono andato Non siamo nella stessa Forse dobbiamo uscire e ci troviamo Ah no, siamo nelle stanze vicine Ma quando mai? Sì, sì, io avevo detto nome Io no Ah, sì Ecco Pozioni di forza Se chiedi, oddio, però ci danno un po' di roba Ma come facciamo a trovarci? Aspetta Allora, prendiamo tutto quanto Morfina Oddio Bullet Cos'è il rifle? Arco Ah, nel dropper c'è il carne di marcia Ah sì? E comunque noi appunto dobbiamo cercare di stare attenti a queste creature geneticamente modificate che si troveranno all'esterno Classica trama di un apocalisse zombie praticamente Allora io prendo il mio arco in mano La bussola la lasciamo nell'inventario e la carne in marcia Ah, no, io non capisco niente di quello che c'è veramente Non sono abituato a continuare a parte Allora, io la Rotten Flash la prendo La Canada Pesca la tolgo Le mele d'oro Ok Non mi se ne interessano neanche le pozzini Ok, qua mi dice start Ok Aspetta, aspetta che vengo anch'io Allora, tu adesso dovresti entrare a una porta Sì, 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 sì Sì, 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 sì Regali, guardate quante figlie Eh, ci sono, ma Ah, sì, spero, io devo arrivare Allora, come potete vedere questa scritta è, diciamo, la trama e la storia Eccoti, l'amo Oh, ma mi avevo paura che non so C'è l'armatura con l'alto Ah, io sì, te no Allora, come potete vedere, qua abbiamo Diana e Daniel Allora, come praticamente che ci hanno scritto in chat tutte queste cose È appunto quello che ho detto io, che appunto c'è stata una gore, radiazioni, armi chimiche Ehm E praticamente questi sono gli unici rifugiati, sono gli unici di maschi Esatto, allora, sai che cosa hai scelto? Allora, io ho scelto medico Ok Allora, io dicevo Che sto dicendo? Allora comunque, e facciamo così tutti Ambo della carta, aspetta di cose crude Allora, danni tutto Io, le mele d'oro, le mele d'oro, le mele d'oro, quelle le incantate E quelle normali Allora facciamo così tutti Ti li, tieni quella roba Poi c'è anche delle garze Tutte le robe Allora, come possiamo vedere c'è il checkpoint alpha Credo sia il primo checkpoint di Allora, io le pozioni le metto nell'inventario e il medico Quattro tengo a parte il mio avviene del 6 7 ok questo è il settore sicuro la zona sicura solo per me sono molte cose sto facendo ordine vediamo la giusta ma ci sono delle rotagne come se ci fosse un dalle vabbè allora era per una stazione metropolitana di titolo acqua c'è una prova ai anni io sì sì ormai non c'è niente ma ti copro io e ciò sono qui là che uccide allora dove dobbiamo andare allora andiamo un nuovo avanti welcome to silent hall ah questa qua credo sia la base guarda che dottimo che chichica chiusa e david, ma perchè non possiamo scambiare eh non lo so ah devono essere sbloccati faccio una cesta con pollo crudo, patata velenosa devono essere sbloccati capito libro e penna oh fornace fornace dove 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 con del carbone dove oh sì e poi morfina carta e piuma prendi la piuma prendi la piuma qua ci sono dei letti ah puoi dormire puoi dormire dormiamo metti lo scuolo credo di sì vediamo se possiamo dormire sì possiamo dormire ok oh maiale cotto allora facciamo così queste due mie e quelle quelle due cure allora siccome questo è lo sponio di lasciare qualcosa nella cassa eh infatti facciamo le cose che fa vedere che io ho mangiato le cose inutili questo credo che ci serva per i aspetta possiamo distruggere sta libreria dato che con la cesta è messa abbastanza no 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 lascia stare se a me spostiamo la cesta eh si sposta la cesta togliela aspetta io potrei anche la fishing rod ma ci sono anche il crafting table controlla aspetta vado a cercare di live oh qua c'è un altro letto con un'altra cesta con della carta aspetta c'è c'era la piume in quella cesta eh l'ho preso allora prendi aspetta sto cercando qua ah questi sono dropper questi distributori eh si ho preso la roba che c'era dentro c'erano carne marcia carne marcia e come si chiama anguria oh qua altro shop ah questo questo però te le dà ci dai medikit per il gasolio eh anche qua c'è il gioco oh qua c'è un altro gioco oh qua che cosa c'è? no non c'è niente qua c'è un joseph che ci dà dei medikit eh qua c'è ah qua c'è le sono le forme di maiali qua dove non c'è ci sono i maiali dove? spero come ci si è arrivato fatto un bel giro shooting range ma e tu che cosa ti dici? vudenzuocopro coccidano una spada di legno per per la cosa quindi la moneta per meno quella roba ma io ne ti è tornato a prendo con la roba spero perso non si sapete chi sei è tipo la moneta si si vengono vengono ah ecco ti forse ti ho trovato aspetta ah qua c'è marketplace ah si questo qua il marketing qua c'è la terra ora perci dà una spada di legno io credo che convenga può prendersi c'è una spada di pietra per 4 la spada di ferro per 12 la tunica per 8 beh si direi la gasolina ce l'abbiamo possiamo scambiare ne abbiamo 20 credo e allora prendi prendi che figo sto cosa no 18 vabbè prendi prendiamo una spada un attenzione spade di pietra no mi sa che non basta ah si 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 due spade di pietra ce la facciamo così poi vediamo se possiamo prenderci un'altra roba qua c'è il luardo qua c'è dell'anguria che non posso ripienciare si ok no aspetta qual era quello che vendeva le armi eh su 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 vai di qua a destra cioè l'ho fatta io sta strada non me la ricordo ah prendiamo l'anguria io sto morendo di fa io la prendo tutto l'anguria ci sono delle porte hai preso la gasolina non corriamo non corriamo si ho presa ok oddio allora rafael la stone board è una mazza chiudata prendi quelle di pietro e c'è pure un arco però per sé che sarà l'arco c'era io eh ce l'ho io lasciamo stare per ora ciò è il rigido due spade di pietra credo che bastino sì sì tanto io c'ho l'arco c'ho le munizioni tanti lasciamo un po' qua eh ma io non le posso prendere tutti due dei vini che c'ho l'inventario pieno l'arco l'arco tu hai del cibo l negativo allora nella cesta c'è della marmellata l'arco l'invento 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 ce l'avevo ah perfetto vabbè posso tutte queste pozioni giusto al momento abbiamo la carota un attimo un gioco ordine il medico è visto facciamo i medici che sono come la muria l'invento 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 si chiama medici vabbè ma se vuoi ti do aspetta vieni qua pollocotto pollocotto ma se prendi anche un altro poi che cos'è che possiamo prendere più allora io direi che può stare ah ma io però ah io c'è f3 più h no quindi vedo sia la durabilità ma vedo anche cosa sono il nome vero eh sì anch'io eh quindi posso vedere qual è il nome vero di sta roba vabbè il sacco è la tnt cioè la gunpowder eh no è polvere da sparo vabbè queste pozioni ci capisce queste soffrecce potato allora cannava pesca la rotta in flash prima la sprechiamo meglio è eh infatti vabbè questo è tanto cibo eh bowl eptican bowl sarebbe altro prenditelo anche tu un accendino prenditelo anche tu un accendino ok allora io c'ho i proiettili ho la mazza ehm si direi che sono ah la morfina sarebbe la torta di cosa portiamoci un po' di cibo ah beh cibo io ho 3 2 2 scopertiamoci l'anguria io mi porterai anche 8 medikit 8 medikit 8 medikit così ok 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 tanto l'anguria medikit della stessa cosa aspetta facciamo così 20 a me 20 a vieni qua vabbè è troppo ok dai vogliamo andare ok dire che si può andare vaude vale ciao 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 ciao